Il mio argomento aprirà al pubblico il prossimo 15 novembre FICO Italy World, il più grande parco agroalimentare del mondo che sta sorgendo proprio a Bologna. La data di inaugurazione è stata decisa dal comune di Bologna, promotore del progetto con FICO Italy World, la società di gestione del parco. La fondazione FICO per l'educazione alimentare e alla sostenibilità, Prelios SGR, che ha istituito e gestisce il Fondo PAI, cioè parchi agroalimentari italiani, per la sua realizzazione insieme anche a CAV, il centro agroalimentare di Bologna. Il parco ad ingresso gratuito punta ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo, racchiudendo l'eccellenza dell'enogastronomia italiana dal campo alla forchetta. I lavori di allestimento sono ormai addirittura d'arrivo e nelle prossime settimane verranno ultimati per rassicurare il taglio del nastro nella data prefissata.